Nei primi 11 mesi di attività sono state 334 le chiamate pervenute al telefono di il centro di ascolto che la regione siciliana offre a tutti i cittadini con disabilità e alle loro famiglie. Il servizio, attivo dal 1 febbraio 2022, nasce dalla collaborazione tra l'assessorato regionale alla famiglia e le politiche sociali e il Garante regionale della persona con disabilità in co-progettazione con l'Hollus Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile. Si tratta di un ulteriore strumento di comunicazione e di ascolto, commenta l'assessore Nunchalbano, messo a disposizione delle persone con disabilità per meglio affrontare le loro esigenze e le loro richieste. I risultati ci danno ragione, sono state numerose le telefonate giunte ed è importante che il servizio continui a fornire sostegno a questi cittadini e ai loro familiari che si trovano a dover affrontare problematiche di vario genere. Le telefonate sono pervenute maggiormente da soggetti residenti in Sicilia, ma non sono mancate le chiamate anche da altre regioni italiane. Si sono avvalse del servizio principalmente persone con disabilità, familiari, operatori della scuola e associazioni per avere informazioni su diritti e procedure da seguire.